Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un inserto formato da un fondo per borsa 30 x 10 cm e due manci triangolari. Vado a lavorare la borsa con il cortino spaghetti in questo color ocra, veramente bellissimo, lo adoro e vado a lavorarlo con l'uncinetto numero 3,5. Vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it Prendiamo il nostro uncinetto, facciamo il cappio, prendiamo il nostro fondo e andiamo a inserirci nei fori facendo una maglia bassa e andiamo a lavorare due maglie basse per ogni foro, quindi adesso che ne ho fatta una, rientro nello stesso foro e vado a fare una seconda maglia maglia bassa. Stessa cosa per tutti gli altri fori, quindi entro nel foro successivo e lavoro una maglia bassa, rientro nello stesso foro e ne lavoro una seconda e praticamente così via per tutti i fori di tutta la base. A questo punto vado a inserirmi qui nel primo punto lavorato e vado subito a fare una maglia bassa e vado a fare una maglia bassa per ogni punto seguente, quindi vedete che per ogni punto sottostante vado a fare una maglia bassa. Una volta terminato questo primo giro di maglia bassa iniziamo con il punto vero e proprio. Allora ci colleghiamo qui nel punto di inizio e chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima. Dopodiché andiamo a fare una catenella in questo modo, saltiamo il primo punto, andiamo nel secondo e lavoriamo due maglie basse all'interno dello stesso punto, quindi una, punto di nuovo nello stesso punto e faccio la seconda, voilà, il punto successivo lo salto, vado in quello dopo e di nuovo lavoro due maglie basse nello stesso punto, quindi una, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia bassa. Di nuovo saltiamo un punto, in quello successivo lavoriamo due maglie basse e così via per tutto questo giro. Quindi ora di nuovo saltiamo un punto, in quello successivo facciamo due maglie basse. Saltiamo un punto, in quello successivo due maglie basse. Procediamo così per tutto il giro. Voilà. Una volta terminato il giro, vedete che qua ho l'ultimo punto che è salto e vado a puntare in quello che era il mio primo punto di questo giro che abbiamo iniziato e lavoro di nuovo due maglie alte nello stesso punto, in questo modo. Dopodiché salto la maglia bassa successiva, vado nel punto a fianco e lavoro di nuovo due maglie basse in questo punto. Dopodiché salto di nuovo un punto, vado in quello successivo e il procedimento della lavorazione resta invariato. Ok? Quindi abbiamo visto fare anche i cambi giro e in questo modo farete tutti i cambi giro a venire. Quindi dovete saltare sempre un punto e poi lavorare nelle due maglie in quello dopo. Quindi anche nel cambio giro vale sempre questa regola. Dopodiché si prosegue a lavorare tutta l'altezza, non tutta l'altezza del corpo borsa, si parte a lavorare una serie di giri che dovranno essere all'incirca 5-6 centimetri in meno dell'altezza finale della borsa che vogliamo ottenere. Perché dobbiamo andare a calcolare che tutta la parte da qua a qua del manico sarà sempre una parte di corpo borsa e andremo a lavorarla però diversamente. Quindi calcolate appunto, qui saranno 6 centimetri, 6 centimetri in meno dell'altezza finale che volete ottenere. Ok? E dobbiamo andare a lavorare così tutti i giri, appunto in questo modo, ripetendo questa sequenza. Quindi andiamo a lavorare due maglie basse nello stesso punto e poi saltiamo uno, un punto di base. Ce la posso fare? Così, saltiamo un punto di base, andiamo in quello dopo e lavoriamo di nuovo due maglie basse. Saltiamo un punto di base, che sarebbe questo, vado nel successivo e lavoro di nuovo due maglie basse. Quindi procediamo in questo modo a lavorare. Allora, guardate, ho realizzato 19 centimetri in totale di altezza del corpo borsa, come vi avevo detto. E adesso dobbiamo andare a realizzare questa parte, diciamo, con le diminuzioni dove va a formarsi, dove verrà a formarsi una B centrale, dove poi andremo a fissare il nostro manico in questo modo. E la parte qui al centro resta vuota, ok? Quindi adesso vi faccio vedere, io l'ho già fatto da questo lato, vi faccio vedere dall'altro come fare questo pezzo, diciamo così, che venga scalato formando questa B. Ne approfitto anche, dato che ce l'ho qua dietro, di farvi vedere i nostri nuovi portarocche per tenere appunto il cordino e la lavorazione scorre molto più velocemente, perché tutte le volte non devo stare qui a srotolare, si srotola da solo, comodissimo. Ne approfitto per farvelo vedere appunto. Detto questo, partiamo subito per realizzare questa parte. Quindi prendiamo il nostro filato, facciamo un cappio. Dobbiamo come prima cosa individuare quello che è il centro davanti e dietro della nostra borsa, quindi potete contare le maglie, misurare col centimetro, fatto sai che dovete individuare qual è il vostro centro. Una volta individuato qual è, lasciamo un punto qui dove non andiamo a fare nessuna maglia, partiamo da quello subito dopo, ci andiamo a inserire e andiamo a fare subitissimo una maglia bassa. Voilà! Vedete? Mi sono inserita in questo modo e qui ho questo punto di vuoto, che sarà poi così, dove andremo a mettere il nostro manico, ok? Quindi il punto di vuoto. Dopodiché dobbiamo lavorare esattamente lo stesso punto di prima, quindi se prima facevamo due maglie basse in un punto e poi saltavamo il punto successivo, anche adesso facciamo la stessa cosa, quindi vado a fare una seconda maglia bassa nello stesso punto, salto il punto a fianco che sarebbe questo, punto nel successivo e di nuovo vado a fare due maglie basse nello stesso punto. Salto il punto a fianco, vado in quello dopo e lavoro due maglie basse nello stesso punto. e devo procedere in questo modo fino ad arrivare nella parte dietro, quindi tutto lungo qua, fino ad arrivare qui dietro, dove ci fermeremo un punto prima della fine, perché anche qui dobbiamo lasciare un punto vuoto, quindi ci fermeremo qua, un punto prima. Quindi proseguiamo tutto il giro, lavorando lo stesso identico punto di tutto il resto della borsa, in questo senso, e poi vi faccio vedere come continuare. Allora, sono arrivata qui e mi sono fermata un punto prima della metà della borsa, quindi voi se non avete ancora come riferimento l'altra parte, perché ovviamente state iniziando, però a metà della borsa magari vi siete messi un segno a punto, dovete arrivare fino a un punto prima della metà che vi siete segnati. Dopodiché abbiamo terminato questo giro, dobbiamo andare a fare una catenella, così, e voltiamo il lavoro. Quindi giriamo la borsa dall'altra parte, perché adesso dobbiamo proseguire in senso contrario, quindi partiamo dal dietro per venire verso il davanti, con però una particolarità, ovvero che dobbiamo fare un punto di diminuzione a inizio del giro e a fine del giro, proprio perché dobbiamo andare a creare questo, diciamo, questa b, questo dislivello, ok? Quindi, adesso, invece di partire nel primo punto, che sarebbe questo, andiamo a puntare nel secondo, e in questo partiamo a lavorare il nostro punto, quindi, di nuovo, due maglie basse prese nello stesso punto. Voilà, però vedete già subito che si crea questo piccolo scalino, ok? Vedete che la distanza è già molto di più. E dobbiamo proseguire così, quindi adesso lavoriamo normalmente per tutto il giro, quindi salto un punto, nel punto a fianco lavoro due maglie basse, poi salto un punto, in quello successivo, lavoro due maglie basse, e così via. Salto un punto, lavoro due maglie basse nel successivo, e proseguo in questo modo, quindi tutto qui attorno, fino ad arrivare qui, dove di nuovo faremo una diminuzione, ovvero ci fermeremo di nuovo un punto prima. Ok? Qui semplicemente ci fermiamo, un punto prima. Comunque vi faccio vedere appena ci arrivo. Allora, arrivati qui al termine del giro, io ho tre punti, uno, due e tre. Questo qua, che è il primo, lo devo saltare, perché il motivo del mio punto prevede che io salti sempre un punto, quindi questo lo devo saltare. Vado a lavorare su quello di mezzo, due maglie basse, che saranno le ultime del giro che andremo a fare, quindi l'ultimo punto non lo lavoriamo. Andiamo a lavorare solo nel punto centrale, andando a fare queste due maglie basse. Voilà. A questo punto facciamo una catenella, e di nuovo andiamo a voltare il lavoro. e stavolta di nuovo dobbiamo andare a saltare una maglia. Quindi, noi non andremo a lavorare qui nel primo punto, ma saltiamo, andiamo a lavorare puntando direttamente nel secondo. E ripartiamo con il motivo a fare le due maglie basse, saltare un punto, le due maglie basse. Vedete che si è già subito creato lo scalino. Ok? Questo è quello che ci permette di creare la via. Allora, per realizzare questa parte, io in totale ho lavorato dieci giri. Ok? Quindi di qui, poi di qui, poi di qui, sempre così, dieci volte, dieci giri, dove a ogni giro, quindi salto la prima maglia da inizio giro, e non lavoro l'ultima. In questo modo dovremmo ottenere questo effetto per poi andare a cucire il manico e avere questa parte qui al centro vuota. Ok? Quindi, sempre nello stesso sistema, procediamo in questo modo a lavorare dieci giri e poi voi dovrete fare anche l'altro lato. Allora, una volta terminati di realizzare tutti i giri da un lato e dall'altro, dobbiamo ancora andare a fare lo scontorno, ovvero un giro di maglia bassa dove andiamo a rifinire questi scalini che non sono molto belli da vedere. Io l'ho già fatto da questo lato e vedete che facendo questo giro di maglia bassa viene tutto perfetto, regolare e molto più bello che vedete da questo. Ok? Quindi, semplicemente da dove siete arrivati vi troverete in un punto così, non dovete staccare il filo né niente, proseguite la lavorazione e andate a lavorare le maglie basse qui da questo lato, quindi una per ogni punto. Vedete? In modo da andare a bordare questa V. Ok. ora una volta arrivati in cima proseguite a lavorare qui sopra le maglie basse fino ad arrivare dall'altro lato e fare la stessa cosa nell'altra v ok una volta fatto ciò abbiamo terminato il corpo borsa e vi faccio vedere come cucire i manici allora una volta terminato lo scontorno di questa parte fatta a v adesso vediamo come andare a cucire il manico quindi prendiamo una bottiglia fettuccia con una guglia di cordino ho fatto un nodo al fondo e vado a inserirmi qui così all'inizio della diciamo della della v e vado a puntare nel primo foro qui così poi vado nel foro a fianco e tiro sbucco nel nel corpo borsa nel foro a fianco successivo voilà adesso torniamo indietro e andiamo agli riempire gli spazi che abbiamo lasciato vuoti quindi vedete che punto subito in questo foro qui e poi torno indietro quindi punto qua così nello spazio lasciato vuoto poi torno puntare qui e qui e vado a raccordare tutti i punti procediamo in questo modo dopodiché torniamo su dall'altro lato e così via e poi attacchiamo l'altro manico dall'altra parte come ultima cosa dobbiamo andare a fare quella che sarà la pattina e la chiusura della nostra borsa per fare ciò dobbiamo andare a realizzare un quadrato che partiamo facendo avviando sei catenelle per ognuna di queste catenelle andremo a fare una maglia bassa quindi facciamo una catenella in più che ci serve per girare andiamo a puntare nella seconda catenella che abbiamo qui e lavoriamo la prima maglia bassa e lavoriamo anche le altre catenelle a maglia bassa quindi in totale a fine del giro avremo sei maglie basse e sei voilà adesso facciamo una catenella di nuovo voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare sei maglie basse sopra queste sei che abbiamo già fatto e in totale dobbiamo realizzare sei giri proprio perché dobbiamo fare un quadrato quindi adesso di nuovo faremo una catenella volteremo il lavoro fino ad aver realizzato sei giri una volta realizzato il nostro quadrato e fatti tutti e sei giri facciamo di nuovo una catenella voltiamo il lavoro e andiamo a fare due maglie bassissime per spostarci al centro del lavoro quindi una e una due sulle prime due maglie dopodiché nelle due maglie centrali andiamo a lavorare due maglie basse quindi una e una due le ultime due maglie non andiamo più a lavorare perché noi adesso dobbiamo andare a realizzare quello che sarà il cordino il laccetto e quindi lavoreremo solo più queste due maglie centrali adesso facciamo di nuovo una catenella voltiamo il lavoro e lavoriamo solo più in queste due maglie basse centrali quindi vedete una e una due una catenella voltiamo di nuovo una e una due una catenella voltiamo e di nuovo andiamo a lavorare queste due e così via e dobbiamo realizzare un laccetto un pochettino lungo perché la chiusura è fatta in questo modo qui ci sarà il quadratino e qui passerà il questo cordino questo filo che stiamo andando a realizzare e dovrà essere fissato qui sotto i manici quindi va un pochettino lungo una decina di centimetri circa adesso io lo faccio poi vi dico esattamente quanto non ho fatto lungo allora ho realizzato in totale 18 giri di lavorando le due maglie basse dopo sono andata a bordare a maglia bassissima tutto quanto la mia pattellina adesso vi faccio vedere come andare ad attaccarlo dobbiamo andarlo a cucire qui appena sotto il manico allora quindi qui prima di staccare lavoro lasciato una guidata un pochettino lunga in modo da poterlo infilare nella cotilla fettuccia dopodiché giriamo la borsa sul retro su quello che sarà il nostro dietro della borsa andiamo a posizionare la pattina proprio qui appena sotto il manico e andiamo a cucirla quindi puntiamo prima della pattina poi nella borsa e tiriamo dopodiché sbucchiamo dalla borsa questa volta prendiamo la pattina e torniamo su così facciamo ancora due punti per maggior sostegno in modo da fissare la nostra pattina ben 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 bene in questo modo una volta fissata la pattina vedete che questa passa attraverso i manici si sporge qui sul davanti e nella parte qui dove abbiamo fatto il quadratino sul rovescio quindi una parte sul rovescio e una parte qui andremo a cucirci una calamita che sarà la chiusura effettiva della borsa quindi la pattina chiuderà con una calamita che andremo a cucire ripeto una parte qui sotto e una parte qui appena sotto il manico in modo che lei si agganci